Gli animali fantastici e leggendari del misterioso e perduto Bosco di Eri Si racconta che in una radura nel Bosco di Elm, il monaco Lao Tzin costruì una semplice capanna e si mise a meditare in posizione Tadasana Meditò così a lungo e così profondamente che pian piano la capanna si dissolse e lui si ricoprì di muschi Avvicinandosi si sente ancora il cuore battere Grazie